Oramai dovremmo esserci. Le telefonate per il sondaggio sull'operato dell'amministrazione e sulle preferenze in vista delle prossime elezioni a sindaco di Bassano sarebbero agli sgoccioli. Un sondaggio sul quale restano alcune importanti incognite e che al di là di chi l'abbia voluto, qualcuno dice la Lega di Bassano, altri la Lega regionale, altri ancora qualche esponente del carroccio cittadino, è e resta un'iniziativa legittima, ma forse troppo prematura. I risultati, chissà, verranno gestiti internamente, verranno resi pubblici, ad ogni modo si vedrà e forse si saprà. Per il momento i vertici della Lega di Bassano non hanno rilasciato dichiarazioni, sebbene alcuni esponenti siano stati interpellati dai nostri giornalisti, ma all'interno della Lega c'è comunque chi parla. Io posso dire che magari si vuole essere sicuri del nome del candidato che si vuole proporre, d'altra parte in questo momento ogni partito e ogni movimento sta giocando le proprie carte per poterne uscire al meglio durante le prossime elezioni. Fra i nomi del sondaggio più di qualcuno ha rimarcato come non figurasse proprio quello di Morena Martini, eppure il suo nome era, o forse è ancora, uno di quelli più ventilati in vista di Bassano 2024. Io posso dire solo che mi fa un immenso piacere sapere che la gente mi apprezza, ha apprezzato il lavoro che ho fatto in un'altra amministrazione. Mi fa piacere che la gente quando vengo a Bassano, che la mia città d'adozione, mi fermi e mi dica e mi faccia i complimenti, comunque faccia delle battute con me. Poi come amo dire, io non credo di dover dimostrare di aver amministrato al meglio il paese che ho amministrato, e cioè Rossano Veneto. Ho sempre detto che appartengo ad un partito e questo partito ha avuto modo di conoscermi e anche di giudicare il mio operato. E resto a disposizione di questo partito. Certo, mi piacerebbe farne parte, mi piacerebbe anche sapere le cose che vengono fatte, però ho imparato che nella vita bisogna accettare, guardare avanti, sorridere e soprattutto fare quello che la gente ti chiede.